Per un debito di 18.000 euro quanto posso offrire per chiudere a saldo e stralcio? La risposta a questa domanda è dipende, bisogna sapere quali sono le sue situazioni, che tipo di lavoro fa, l'età, se ha case di proprietà o meno, chi è il creditore, quale banco finanziario se il credito è stato ceduto. Ogni banco finanziario o società che acquista i crediti ha delle politiche, delle dinamiche, quindi per ogni creditore si può ottenere una determinata scontistica diversa in base alle caratteristiche elencate prima, quindi non è possibile indicare una cifra da offrire senza conoscere bene queste indicazioni. Tendenzialmente è ovvio che una persona nulla tenente, magari pure anziana, potrebbe giudere anche al 10%, mentre generalmente una buona giusura a stralcio può andare dal 50% fino al 70-80% di sconto.